Una cosa che mi sia, siccome non si è trovato a rilamitrano, è stato spiccato il mandato di cattura e qui si è venuto ad arrestare. Precisamente. E' vero che? E' vero che c'è qualcosa. Se capisci, i nodi vengono al pettine. Quando si sbaglia si deve pagare. E' un cistero. Prima di dire, solamente 5 minuti di tempo per mettere a posto una faccenda di famiglia e poi sono subito ai rossi. Calutti. Questo mi arresto, vedi? E' un po' male. Una seconda.